Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Montelupo e Ginestra Fiorentina e code tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!